Mi chiamo Cinzia Bacerelli e abito a Magliano in Toscana. Mi candido con Gabriele Fusini perché ho molta stima di lui. So che lui in ogni cosa che fa ci mette cuore e anima. Una cosa che vorrei fare per il nostro territorio è fare una pista ciclabile che colleghi Pereta, Magliano, Montiano, Cupi e porti al mare in modo che questo paesaggio non sia solamente turistico quanto riguarda l'estate ma sia turistico qua tutto l'anno. Mi piacerebbe fare anche delle camminate di trekking per far conoscere il nostro territorio, i nostri paesaggi, questi paesaggi storici bellissimi che abbiamo. In particolare mi piacerebbe anche fare degli eventi musicali e ricordo soprattutto il grande Pino Daniele. Io penso che il nostro territorio non possa crescere solamente sotto il punto di vista turistico ma possa crescere sotto tanti aspetti. Io e il mio gruppo ce la metteremo tutta per realizzare tutto ciò.